Il piano d'impresa dell'anno 2018 dell'azienda dei trasporti pubblici di Brindisi, la STP, è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa presso la sala conferenze dell'azienda del presidente Rosario Almiento alla presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, Lorena Capone, che oltre a visitare l'azienda, ha anche spiegato il perché della dismissione delle quote previste per la STP da parte della regione e illustrato il progetto Puglia 365 che vede il coinvolgimento dell'azienda Brindisina. Il presidente e il management mi hanno invitato a visitare l'azienda per farmi vedere le performance positive che questa azienda ha avuto dopo lo sgomento della dismissione delle quote da parte della regione. Mi sembra che quello sgomento sia stato ampiamente superato in positivo, oggi l'azienda è efficiente ma c'è molto da fare sul piano turistico e culturale per avere migliori collegamenti proprio per potenziare l'accoglienza. Di questo devo dire che sono positivamente impressionata e a gennaio organizzerò già un incontro con aeroporti di Puglia e con l'autorità portuale proprio per lo sviluppo turistico di collegamenti che possono andare a beneficio non soltanto di tutta la provincia di Brindisi ma anche oltre. In fondo è questo che vogliamo noi. Vogliamo che i turisti facciano la loro esperienza trovandosi bene, trovando buoni servizi e che perciò parlino bene di noi in maniera tale da tornare se stessi e far venire altra gente. Ma il passaparola passa dall'esperienza. Devo dire che apprezzo molto l'approccio efficientistico di questa azienda. Lo apprezzo e quindi se la nostra collaborazione può essere utile all'interno di un piano strategico che punta al potenziamento delle infrastrutture e a un turismo tutto l'anno che si svolge per 365 giorni, credo che questo possa essere solo un buon auspicio. D'altra parte Puglia 365 significa che quello che oggi un servizio urbano deve diventare sempre più un servizio diretto anche ai turisti. Vuol dire potenziare l'approccio culturale perché aprire i borghi durante tutto l'anno, non farli conoscere solo per la stagione balneare, ma significa anche più occupazione, significa meno precariato, significa più professionalità, più investimenti sulla formazione perché quanto più dura questo settore, quanto più viene messo nelle condizioni di durare, tanto più tutte le strutture ricettive, tutti coloro i quali orbitano intorno l'indotto praticamente investono proprio in professionalità. Ad illustrare il piano industriale anche il menaggio e mente aziendale STP e il percorso che l'azienda intraprenderà per il 2018. La nostra sfida continua è trovare punti di partenza. Dopo aver sinergicamente collaborato anche in maniera proficua con l'amministrazione comunale di Brindisi, quella di Ostuni con la provincia di Brindisi, adesso con l'assessore Capone cercheremo di dare il nostro contributo anche ad una espansione di questa nostra missione. Quindi una visione ad ampio spettro di quello che può il territorio dare a chi ci vive e a chi viene a visitarci attraverso delle strutture che sono strutture di eccellenza. E tra queste strutture di eccellenza è ormai dal 2013 che abbiamo un bilancio positivo consolidato, che abbiamo efficienza nei servizi, che abbiamo gradimento da parte di chi utilizza le strutture e le infrastrutture della STP di Brindisi che può da questo punto di vista fornire un contributo anche a una visione alta di quello che può essere il territorio del nostro Salento. Quindi con l'assessore Capone, diciamo questo per noi è un grande onore avere la possibilità di collaborare e di diventare punto di riferimento nell'ambito della missione che la società svolge ogni giorno. Quindi il nostro trasporto urbano e il nostro trasporto extraurbano sarà a disposizione dei progetti culturali turistici che la Regione Puglia vorrà dedicare al nostro territorio. Diciamo è il punto di partenza che segue il punto d'arrivo. Cioè il nostro obiettivo principale quando abbiamo cominciato diciamo questa avventura con la direzione dell'azienda era proprio quello di dare al territorio una società che potesse essere al passo con i tempi e con diciamo criteri di affidabilità rispetto a progetti illuminati come quelli che vengono proposti oggi dall'assessorato al turismo della Regione Puglia. E sono infrastrutture che naturalmente servono. Quindi queste tratte, questi servizi...